Grazie a tutti. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi un video collaborazione, terza collaborazione con l'azienda Dui Tu. Vi ricordo il codice sconto che è Antonia35, avrete diritto al 35% di sconto su tutto il carrello. E il 35% è tantissimo. Quindi vi consiglio di andare a dare una sbirciatina al canale che ha tanto tanto materiale. Ora vi mostro quello che io ho scelto per questa collaborazione. Quello che ho scelto per questa collaborazione sono questi rivoli svaroschi. Sono da 14 mm e sono di questa colorazione stupenda. Il retro è turchese. In una confezione ci sono quattro pezzi. Poi ancora altri rivoli svaroschi. Questa volta da 12 mm. Anche in questa confezione sono quattro pezzi. E questa è la colorazione che ho scelto. Guardate che belli che sono. Favolosi. Poi per quanto riguarda ancora la svaroschi. Ho preso questi biconi. In una bustina ci sono 60 pezzi. Sono biconi da 4 mm. E sono le Indian Sapir AB. Guardate che belli che sono. Poi ancora come biconi svaroschi. Ho preso questi. Non so perché non mi hanno inserito l'etichetta. Ma guardo sulla bolla. Che sono sempre da 4 mm. Contegnene 60 pezzi la bustina. E sono Crystal Shimmer. E guardate anche questi che luccichi io. Poi ho scelto le Moby Duo. In una confezione ci sono 30 pezzi. E questa è la colorazione che ho scelto. Poi ho scelto dei perni. Sono color argento. E sono da 6 mm la base. Ogni confezione contiene 20 pezzi. E di questi perni ci sono anche in argento 925 e argento placato oro. che per una lavorazione importante rende comunque la creazione molto più pregiata. Naturalmente insieme ai perni ho preso anche le farfalline che sono della stessa colorazione. Sono anche questi 20 pezzi. Poi ho preso anche dei perni color oro. Siccome non so quale due rivoli usare. se questi qui ho i rivoli turchesi. Quindi ho scelto due colorazioni di perni. Ho preso quindi anche questi oro. Anche questi la base è da 6 mm. E ogni bustina contiene 20 pezzi. Anche di questi ho preso le farfalline per il retro. Anche questi sono 20 pezzi. Quindi questo è il materiale che io ho scelto per questa terza collaborazione. Naturalmente nell'info box troverete tutti i link dei prodotti da mie scelti. Vi ricordo il codice sconto per quanto riguarda la mia collaborazione. Che è Antonia35 cliccare nel carrello dove c'è scrivere lo sconto, la promozione. E quindi si ha diritto al 35% di sconto su tutto il carrello. Qualsiasi all'importo. Quindi presto ci sarà un video tutorial con questo materiale. Seguitemi, iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanella per essere sempre aggiornati. Io vi saluto. Volevo ricordarvi che il codice sconto del 35% cliccando Antonia35 è valido fino alla fine di giugno. Ciao! Ciao e alla prossima. Ciao a tutte!